E' stravicina ai territori, dalla dichiarazione consolidata non finanziaria emerge che il valore degli acquisti di beni e servizi supera i 258 milioni di euro che per il 60% vanno a fornitori del centro Italia. Ispezioni a tappeto in tutta la provincia di Grosseto alla ricerca sistematica di dispersioni sui 450 chilometri dell'intera rete gas gestiti da Gergas, la società energetica controllata da Estra. Estracom, la società di telecomunicazione di Estra insieme ad Open Fiber, sta completando fino alla zona industriale il cablaggio di Signa, comune della Piana Fiorentina non lontano dal capologo toscano. Estra ancora con il baseball senese, il marchio Estra continuerà ad essere presente allo stadio Scialoia e su tutte le maglie serie C e giovanili e anche sulla maglia della neonata società Siena Baseball Club.